ce l'abbiamo fatta oggi la blue crew è la 04 park e di questo ne vado molto fiero la mia pista la conosco abbastanza bene e quindi per me è stato anche più facile parlare di motocross la nostra collaborazione sta andando avanti e sta migliorando sempre di più adesso il park sta prendendo forma e diventerà veramente un posto di riferimento per tanti il blue crew camp per noi è un appuntamento fondamentale che va nella direzione di coltivare i talenti per cui abbiamo i nostri pilotini del 85 del 65 del 125 che hanno la possibilità di passare una giornata sotto la guida di insegnanti d'eccezione come andrea bartolini e andrea dovizioso sulla parte tecnica dai abbiamo soprattutto lavorato nelle curve perché essendo molto giovani fanno fatica a trovare le linee giuste e dai hanno questa abitudine di usare solo dai una parte di pista e non la pista che allarga 8 o 10 metri